Uè non fare il barbone! Da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice CREATOR! Clicca in basso a destra sul tasto supporto a un creatore ed inserisci XIODERONE! DAIE! Can you hear me screaming? Nelle ultime ore tra cui come avete detto nel titolo due possibilità per avere il pass battaglia della season 10 in maniera totalmente gratuita incredibile ragazzi nel video di oggi infatti parleremo anche dei regali per tutti ragazzi quelli che hanno voluto fare epic games in collaborazione direttamente con youtube proprio per l'evento della world cup ragazzi un evento veramente assurdo mondiale che merita una controllata una visione uno sguardo da parte di ognuno di voi parleremo anche ovviamente di un po di indiscrezioni riguardanti l'evento di sabato prima però voglio ringraziare tutti quelli che utilizzano il mio codice creator XIODERONE grazie di cuore ragazzi per supportarmi nello shop mi raccomando iscrivetevi in tantissimi al canale e soprattutto attivate la campanella per non perdere nessuna notifica sui miei video e sulle mie live ma prima ce l'ho la domandina ce l'ho anche oggi ragazzi ve la devo fare assolutamente starnutire no ve la devo fare assolutamente ragazzi perché mi va un sacco di leggere i vostri commenti come fate ogni giorno proprio qua sotto ed è una domandina che è davvero davvero facilissima ragazzi qual è la tua preferita delle otto skin che sono uscite ieri nello shop sono le skin ragazzi quelle relative al alle world cup perché si pensava fossero esclusive solo per i qualificati ed invece sono state proposte per tutti la mia ragazzi è la tizia bionda che si chiama brigadiere brigadiere vargadel non ricordo bene il nome ma la tizia bionda è davvero davvero tanta roba ditemi invece qual è il vostro preferito qua sotto nei commenti e ovviamente se lo avete shoppato ma quindi ciancio alle bande e bando alle ciance andiamo subito subito ragazzi a parlare dei regali che fortnite insieme a youtube metterà a disposizione davvero in una maniera super super semplice sono tre i regali ragazzi il primo sopra di me uno spray animato ve lo voglio fare vedere immediatamente proprio così di prepotenza guardate lo spray è proprio questo non male non male non male il secondo regalo invece ragazzi è un altro spray quello che vedete dall'altra parte il game jam poi vi spiegherò che cos'è e il più importante ovviamente la copertura animata per armi e veicoli come si fa ad ottenere questi regali bisogna innanzitutto collegare il vostro account di youtube con il vostro account di epi games oe xuder come cavolo si fa te lo faccio vedere non ti preoccupare allora per collegare il vostro account di youtube con il vostro account di epi games innanzitutto dovete andare sì però se mi ci vedo pure io eh cacchio dovete andare ragazzi nella pagina di epi games di youtube buonanotte ai sognatori nella pagina di youtube questa è la mia home page principale voi avete la vostra da qui ragazzi vi spostate in alto a destra dove c'è il logo del vostro canale ci cliccate sopra e andate nella sezione impostazioni una volta cliccato su impostazioni nella colonna di sinistra vi spostate nella sezione account collegati come vedete ragazzi mi sposto io che vi do fastidio qua mi metto qua un secondo devo fare tutta la scena che mi sono mosso come vedete ragazzi di qua ci sono degli account che potete collegare non è ancora presente l'account di epi games non abbiate paura ragazzi nella giornata di oggi probabilmente massimo questo pomeriggio sarà disponibile l'opzione voi cliccherete nel tasto blu connect connetti se ce l'avete in italiano e da lì inserirete il nome utente e la password per associare il vostro account di youtube con il vostro account di epi games quindi veramente una cosa no 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 una cosa veramente semplicissima cos'è che però dobbiamo fare non basta ragazzi purtroppo associare l'account per poter guadagnare questi premi non dovete fare niente di strano ma vi voglio far vedere ragazzi che bisognerà visionare guardare per almeno 20 minuti una diretta della world cup per un totale di tre dirette se volete tutti e tre i regali come vedete ragazzi il giorno 25 luglio si potrà ottenere lo spray game jam e guarderemo la prima parte delle world cup il 26 luglio si potrà fare la stessa cosa quindi di nuovo lo spray game jam il 27 luglio il mio compleanno si otterrà lo spray della world cup vi ricordo 20 minuti da guardare ma poi in questi giorni vi dirò anche i link perché si devono guardare su youtube ragazzi fortnite la world cup verrà anche trasmessa ovviamente in streaming su youtube e il più importante il 28 luglio ragazzi che è la finalissima si otterrà la copertura linea rossa davvero ragazzi meraviglioso come come idea quella di epic games di regalarci tutte queste cose dovrei avere anche la copertura linea rossa eccola qua ragazzi ve la faccio vedere subito perché merita davvero tantissimo ed eccola qua ragazzi molto carina considerando che è gratis non vedo perché non approfittare di ottenerla semplicemente guardando per 20 minuti quello che è uno dei più importanti se non il più importante torneo videoludico mondiale in questo momento ma andiamo avanti ragazzi dopo la world cup parliamo finalmente di ciò che può succedere nella season 10 e parliamo anche di pass battaglia gratis non ci crederete ma sembrerebbe che siano stati trovati due metodi per ottenerlo il primo ve lo voglio far vedere ragazzi guardate meraviglioso l'effetto che mi si sfoca sotto meraviglioso la prima volta che lo provo come vedete ragazzi guardate la seconda e la terza riga questi sono codici stringhe di codice inserite nei file di gioco cosmetic source season 10 battle pass free allora si dice che la prima riga sia relativa ai qualificati della world cup tutti quelli che si sono qualificati alle world cup otterranno il pass battaglia gratuito ma la seconda è molto più interessante e adesso ve la faccio rivedere in maniera un po più in grande che dice cosmetic source battle pass paid cosa vuol dire paid vuol dire ovviamente pagare ma ragazzi non dovrete pagare voi semplice basta semplicemente che convinciate un vostro amico e come vedete in questa stringa di codice battle pass gift dalla season 10 è altamente probabile che vi possano regalare il pass battaglia quindi ragazzi se non potete shoppare se per caso non ve lo permettono o qualcosa accordatevi con un amico che invece lo può fare e magari potreste avere la fortuna di ottenere gratuitamente il pass battaglia una funzionalità che apprezzo davvero tantissimo e che è sicuramente geniale per quanto riguarda epic games abbiamo anche però delle altre novità incredibili per la season 10 sembrerebbe che arriveranno nuovi tipi di outfit mi spiego meglio non sto parlando di nuove skin ma sto parlando di particolari nelle skin come vedete atena charm cosmetic non sappiamo cosa vuol dire però so che se non ricordo male c'è qualche videogioco csgo forse o non lo so perché io non gioco ad altri giochi dove ci sia lo charm nelle armi nei cosmetici qualcuno che magari ne sa più di me può scriverlo nei commenti sembrerebbe ragazzi che nella season 10 ci saranno anche nuovi tipi di skin purtroppo ragazzi per spiegarvi tutte le cose qua ne vediamo un altro di codice per i regali siamo arrivati al tempo massimo quindi vi ringrazio ragazzi per avere guardato questo video domani vi aggiornerò su altre curiosità per l'evento di sabato io sarò in live insieme a voi inizieremo alle 19 mi raccomando iscrivetevi in tantissimi al canale noi ci vediamo alle otto in live ciao